talani possano esprimere la loro volontà e che quella volontà, qualsiasi essa sia, sia rispettata perché non c'è niente che può superare la volontà di un popolo. Grazie. Ringrazio. Adesso passiamo all'ultima interpellanza urgente, la numero 2, 1906, deputati Pellegrino ed altri, concernente iniziative di competenza tutela dei diritti sindacali in relazione al trasferimento di un dirigente sindacale presso la Barsiglia S.p.A. di Triestes. Chiedo alla deputata Pellegrino se intende illustrare la sua interpellanza. Prego. Grazie. Grazie Presidente e Sottosegretario. Il caso su cui verte questa interpellanza per noi di sinistra italiana è significativo di un approccio purtroppo non nuovo nella storia delle relazioni tra padronato e rappresentanza dei lavoratori. Quanto avvenuto ci preoccupa e assieme ci scandalizza perché alla luce della nostra Costituzione e delle leggi vigenti risulta del tutto in contrasto con i diritti e le conquiste sindacali di questo nostro Paese. Il fatto è avvenuto a Trieste, ai confini della nostra terra, dove opera una multinazionale, la Barsiglia S.p.A., una società specializzata nella metalmeccanica e in tecnologie marine, con sede centrale in Finlandia, che ha un'importante rilevanza nel tessuto economico del friù di Venezia Giulia. E la vicenda su cui la interpelliamo riguarda Sascha Colautti, dipendente della Barsiglia S.p.A. nello stabilimento di Trieste. Racconto, racconto un po' che cosa è accaduto sotto segretario. Colautti, dopo essersi espresso contro l'ultimo contratto, si è dimesso da segretario della FIOM e ha aderito all'USB. Per questo, terminato il periodo di distacco sindacale, che ha coinciso con la guida dei metalmeccanici della CGL, ha chiesto all'azienda di poter rientrare in fabbrica con suo diritto. L'ufficio personale della controllata italiana della multinazionale finlandese si è riservato per un po' di tempo la risposta. E poi, nella mattinata dello scorso 6 giugno, ha comunicato allo stupefatto Colautti che sarebbe rientrato in fabbrica, ma non nella sede di Trieste, bensì nella sede di Taranto, distante più di mille chilometri, in quanto la sede di Bagnoli non era disponibile, a seguito della ristrutturazione degli organici. Dopo quanto accaduto, l'USB ha promosso una serie di mobilitazioni a sostegno e a difesa di Sascha Colautti. Una manifestazione molto partecipata si è tenuta il 24 giugno a Trieste per chiedere il ritiro del trasferimento e il ritorno in fabbrica nella sede di Trieste di Sascha Colautti. In quella circostanza noi presentammo un'interrogazione al Ministero che non ci ha dato risposta. Lo scorso 3 luglio si è svolta l'udienza presso il Tribunale di Taranto con la richiesta al giudice del reintegro di Sascha Colautti, dove? Nella sede di Trieste, perché aveva diritto a stare nella sede di Trieste. Il giudice, a quanto ci consta, avrebbe rinviato a questo settembre la discussione. È evidente che il mancato rientro del lavoratore nella sede di Trieste e il suo trasferimento a Taranto, senza alcuna giustificazione plausibile, è stato fatto per colpire un lavoratore scomodo impegnato sindacalmente. Si è trattato di una vera e propria rappresaglia contro un operaio impegnato nell'azione sindacale. È scomodo, davvero scomodo per l'azienda. Questo trasferimento non può non essere letto come arbitrario e punitivo e la condotta da parte dell'azienda è apertamente in contrasto con i diritti sindacali sanciti dalle leggi del nostro ordinamento. Io le chiedo, sottosegretaria, con questa interpellanza, evidentemente davanti all'interrogazione a cui non abbiamo avuto risposta, da parte del Governo non ci sono state grandi manifestazioni a seguito di quello che è accaduto in quel lembo di terra. Le chiediamo se è a conoscenza dei fatti accaduti a Trieste e quali sono i suoi orientamenti a tal proposito. E in particolare nel rispetto delle disposizioni vigenti vorremmo conoscere quali iniziative intende assumere per favorire al più presto il rientro di Sascha Colauti nello stabilimento di Trieste. La ringrazio. Adesso la sottosegretaria per il lavoro delle politiche sociali, Franca Biondelli, a facoltà di rispondere. La ringrazio, Presidente. Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Pellegrino, che ringrazio, e altri, inerenti alla vicenda del signor Colauti, dipendente dalla società Varsila Italia S.P.A., passo a illustrare quanto segue sulla base di informazioni fornite dal competente Ufficio Territoriale del Lavoro di Trieste e del Ministero della Giustizia. Il signor Colauti è stato assunto nel 2005 da Lavarsila Italia in qualità di addetto alle lavorazioni meccaniche, con un contratto di inserimento successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato. Ha ricoperto l'incarico di segretario provinciale della FIOM con conseguente aspettativa sindacale e il signor Colauti ha aderito negli ultimi due anni all'organizzazione USB, usufruendo di un periodo di aspettativa. Il 6 giugno 2017, al termine del proprio distacco, la società ha disposto il trasferimento del lavoratore dalla sede originaria di San Dorligo della Valle, Trieste, a quella di Taranto. L'organizzazione sindacale cui appartiene il lavoratore lamenta che il trasferimento configuri una condotta antisindacale. Dagli accertamenti su richiesta del Ministero del Lavoro, che rappresento dagli ispettori dell'Ufficio Territoriale del Lavoro di Trieste, è emerso che presso il sito di San Dorligo della Valle è tuttora presente il reparto di lavorazioni meccaniche presso il quale il signor Colauti era stato adibito al momento dell'assunzione, pur avendo avuto tale reparto un ammodernamento tecnologico nell'ultimo periodo. Da ultimo, il Ministero della Giustizia ha riferito che lo scorso 3 luglio il Colauti, il signor Colauti, ha presentato presso il Tribunale di Trieste ricorso ex articolo 700, codice di procedura civile, nei confronti della società Varsela Italia, con quest'atto introduttivo. Il ricorrente ha richiesto la declaratoria di illegittimità del proprio trasferimento della sede di Trieste a quella di Taranto. Lo scorso 28 luglio si è tenuta la prima udienza del procedimento cautelare, all'esito del quale il giudice, su istanza congiunta delle parti, ha fissato lo scorso 11 settembre una seconda udienza finalizzata all'esperimento di un tentativo di conciliazione. L'udienza è stata successivamente rinviata per medesimi incombenti al prossimo 6 ottobre. Pertanto, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, ogni valutazione in ordine alla legittimità del comportamento posto in essere da Varsela S.P.A. sarà rimessa alle statuizioni definitive della competente autorità giudiziaria. La ringrazio. La deputata Pellegrino fa accortare di dichiarare se si è soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Grazie Presidente. Quello che esprime Sottosegretaria con la sua risposta fa comprendere che se non ci fossero state le sollecitazioni da parte del Parlamento, della popolazione tutta che è scesa in piazza a sostegno di un lavoratore che manifestava tutto il diritto di dissidenza, la Varsela avrebbe potuto agire in modo del tutto indisturbato, creando un precedente che legittimerebbe azioni che già moltissime aziende stanno attuando su tutto il territorio. Il fatto che situazioni come questa, illustrata nella nostra interpellanza, si verifichino nell'ambito di grandi aziende private e multinazionali non sposta la prospettiva di valutazione di merito e politica e il Ministro del Lavoro non può sottrarsi dal suo ruolo. Possiamo accettare che sia sempre la magistratura a intervenire dove la politica e il suo Governo sono assenti? Il formalismo delle risposte a cui siamo purtroppo abituati non è questo il caso sottosegretario, ma purtroppo accade troppo spesso. Ci sembra sufficientemente indicativo del fatto che siete costantemente in contraddizioni tra un atteggiamento di sudditanza nei confronti del capitale, se poi è straniero ovviamente ci rende ancora più piegati, è il fatto che siete costretti a definirvi pubblicamente di sinistra, parlando per spot di tutela del lavoro. Invece di incentivare il lavoro avete esaltato la flessibilità come un grande ed eccezionale conquista del lavoratore che si è trasformato nella legalizzazione della precarietà, lavoretti purtroppo sottopagati e sempre meno tutelati. Con il Job Act e l'abolizione dell'articolo 18 avete reso insicuri anche i lavoratori a tempo indeterminato. Avete spianato la strada a un padronato sempre più arrogante nei rapporti con i propri dipendenti e nei confronti delle organizzazioni sindacali. Il caso di Sascha Colauti è emblematico ed è l'essenza di quello che volevate ottenere con la vostra pseudoriforma del lavoro. Chissà se vi siete resi conto dell'abuso di potere che avete lasciato a una multinazionale che crede di poter ledere impunemente i diritti conquistati negli anni dai lavoratori italiani. Eppure questa azienda, la società Varsi, la SPA, è stata notevolmente supportata dalle finanze pubbliche. Le ricordo che la Regione Friuli-Venezia-Giulia e il Governo hanno partecipato anche recentemente ai tavoli di trattativa per evitare esuberi nello stabilimento di Trieste. E il ricatto occupazionale anche questa volta è servito per far entrare risorse pubbliche nelle casse dell'azienda. Denaro di cittadini che dovevano andare a tutelare i lavoratori e non generare mobbing. La società Varsi, la SPA, infatti, per evitare licenziamenti, si è vista assegnare 900.000 euro dalla Regione Friuli-Venezia-Giulia e 2,8 milioni di euro dal Governo. Risorse provenienti dal Fondo per la crescita sostenibile, per sostenere il progetto di sviluppo da parte della Società di Tecnologie Innovative nell'Unità Produttiva di Trieste. Noi riteniamo che decisioni così gravi della dirigenza italiana del gruppo finlandese devono venire considerate anche all'interno delle stesse dinamiche che producono l'intervento economico pubblico a sostegno dell'occupazione dei lavoratori e del profitto della proprietà. Certi provvedimenti non possono essere unilaterali e vanno considerati anche in forza della rilevanza degli interventi pubblici effettuati e non soltanto in base alla garanzia costituzionale della rappresentanza sindacale e della libertà di associazione. È per questo, sottosegretario, che le dico che vi staremo col fiato sul collo, per ottenere da voi davvero un impegno concreto, una posizione chiara da parte del suo Ministero. Le riforme vanno fatte, ma a vantaggio del lavoro e non del capitale. Il primo articolo della Costituzione è chiaro ed inequivocabile e i padri costituenti lo sapevano bene, che il rischio di venderci al capitale era sull'uscio di ogni scelta di qualsiasi governo. Lo Statuto dei Lavoratori, conquistato con grande fatica, è diventato, ahimè e ahi noi, carta straccia nelle mani del mito della globalizzazione. Vorrei ricordarle, sottosegretario, a una figura emblematica della storia della nostra Repubblica, il socialista Giacomo Brodolini, uno dei padri dello Statuto dei Lavoratori, diventato Ministro del Lavoro. Ebbene, questo Ministro amava dire di essere Ministro dei Lavoratori, non del Lavoro. E voi, con il Job Act, di chi siete rappresentanti. La ringrazio, così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno. avvertò il legato al resoconto stenografico della seduta odierna. Sarà pubblicato lo schema regante dell'organizzazione dei tempi per l'esame delle emozioni 1.17.